Presumibilmente di giovane età, alti, corporatura esile, uno parlava italiano, l'altro con accento straniero vestiti di scuro, felpa con cappuccio calzata sulla testa e sciarpa davanti alla bocca. Questa è la loro immagine che la telecamera audiovisiva ad infrarossi all'interno dell'edicola della stazione ha catturato alle 4.23 della scorsa notte. È l'orario in cui è scattato l'allarme all'interno del negozio una volta che i due malviventi hanno forzato rompendola la porta interna comunicante tra l'edicola e la beglietteria della stazione di Fano. Una manciata di secondi, la loro irruzione, costellata di frasi concitate tra i due perché all'interno del locale era buio e non si vedeva nulla ma quel tanto che è bastato per arraffare il possibile. I carabinieri sono arrivati in una manciata di minuti essendo la radio mobile nelle vicinanze ma i due, forse intuendo che avevano i minuti contati, hanno forzato la porta vetro che dà sul binario 1 e si sono dileguati dalla parte mare della stazione, forse utilizzando il sottopasso e scomparendo nel nulla, inghiottiti dalla notte senza avere il tempo di prendere altri oggetti di valore come gratta e vinci o schede telefoniche. Non è la prima volta che l'esercizio commerciale subisce la visita spiacevole dei ladri. Un furto analogo era stato eseguito nel 2017. Anche oggi, come allora, tanti i danni materiali, probabilmente di diverse migliaia di euro, lasciate alle loro spalle e bottino di pochi spiccioli. Le immagini della telecamera che ha ripreso il loro raid sono state acquisite dai carabinieri di Fano che ora indagano sull'accaduto.